C'è ragazzi bentornati sul mio canale YouTube, in questi giorni sono uscite svariate SBC molto interessanti di giocatori che hanno delle ottime caratteristiche e secondo me tanti di voi hanno avuto l'idea di andare a sbloccare ma magari ancora hanno lasciato lì sospesi in attesa di qualche consiglio. Ebbene, oggi andiamo a vedere come vanno a rendere in game Shevchenko, Claudia Pina e il buon Pedro Neto. Ragazzi partiamo dall'analisi di Pedro Neto, calciatore portoghese del Wolverhampton che ovviamente milita in Premier League, ruolo esterno-sinistro ma ha tanti ruoli alternativi, infatti può fare l'attaccante destro, la TT, l'attaccante sinistro e oltre a questo è un giocatore di 1,72m con work rate alto normale, 4 stelle skill, 4 piede debole, piede preferito il mancino e tipo di accelerazione esplosiva che dunque va a prediligere l'accelerazione rispetto alla velocità scatto, questo ve lo ricordo fondamentale. Il costo della sua SBC è di circa 100.000 crediti che più o meno va a fare il pari e dispari con quello che è stata la sua evoluzione che abbiamo visto un po' di tempo fa nel gioco disponibile che costava più o meno 120.000 crediti. Andiamo a parlare un po' del rendimento statistico di questo giocatore perché vi dicevo molto veloce, 93 di accelerazione e 92 di velocità scatto che predilige l'accelerazione ma abbiamo due parametri al top quindi non è questo grandissimo problema. Poi abbiamo un 86 di finalizzazione e un 87 di potenza tiro che sono due parametri onestamente non entusiasmanti dal mio modo di vedere perché capita che davanti la porta alle volte faccia quella classica animazione di tiro non di collo ma di piatto e vi assicuro che quando parte quella conclusione lì smadonnate perché escono praticamente delle sciavattate lente che sono facile preda dei portieri avversari. Quindi dal punto di vista della finalizzazione onestamente pecca leggermente, così come pecca anche leggermente in quelli che sono i passaggi perché va bene il passaggio corto che è ottimo perché abbiamo un 87 però occhio al passaggio lungo che è 68 quindi se volete andare a fare dei passaggi filtranti o dei lanci lunghi non è che proprio siano il massimo con questa carta qua anche perché il tutto è accompagnato anche da un 80 di effetto. Giocatore poi per carità molto agile nonostante 83 di attività non capisco che è un parametro per me più basso di quello che in realtà è questo pedroneto infatti quel 93 di agilità e 94 di equilibrio si sentono molto di più con i micromovimenti è praticamente demoniaco. Bene la freddezza, bene la resistenza, per quanto riguarda i stili di gioco abbiamo il passo veloce dorato, il rapido e il prova di pressing base così come abbiamo anche il passaggio teso, il passaggio calibrato e il tiro di precisione. Tiro di precisione che comunque non sentiamo tantissimo per via della potenza tiro bassa perché vi ricordo 87, tiro dalla distanza 84 che sono parametri un po' average non si sente neanche tantissimo questo razzetto perché è una carta che onestamente fa un po' fatica ad andare via in velocità a campo aperto per via della sua stazza vi ricordo 1,72 quindi classiche gambette per questo pedroneto quando becca difensori molto grossi che con un loro passo ne fanno 10 di sto pedroneto praticamente è una palla persa garantita. ripeto il rapido invece poi invece contribuisce a quello che è il movimento nello stretto di questo giocatore e il passaggio calibrato soprattutto gli permette di poter dialogare in maniera ottimale con i compagni soprattutto se schierato in un attacco a 2 ruolo che secondo me questo pedroneto fa in maniera discreta perché comunque ripeto non è un top come voto mi sento di dargli un 7, 7 più non esagerando perché trovo molto più forte la sua versione evoluzione che vi ricordo è 5,5 quindi aveva dei punti di eccellenza inoltre la trovavo anche un po' più veloce mentre questa carta qui sembra fare un po' tutto bene ma niente in maniera top quindi considerando comunque le alternative che ci sono in giro onestamente io questo pedroneto lo skipperei per come la vedo io ma passiamo ad un altro giocatore che sono sicuro tanti di voi avranno pensato di sbloccare ovvero Andrishevichenko 1,83m alto, alto il suo rendimento 4 skill 4 piede debole piede preferito destro può fare l'attaccante la T e l'attaccante destro quindi anche lui versatile per quanto riguarda le varie ibride che magari potete andare a fare e in particolar modo questa è una carta che costa più o meno sui 350-400.000 credit a seconda delle oscillazioni dei fodder la velocità con quel 91 diviso in 90 di accelerazione e 92 di velocità scatto non si sente tantissimo non è una carta che ti dà quella grande impressione di velocità chiaro rispetto alle altre versioni di Scefchenko senti che c'è un qualcosa di diverso ma siamo ancora ben lontani da uno di quei giocatori che secondo me possiamo definire meta nulla da dire sulla finalizzazione 93 infatti 92 di potenza tiro e 90 anche dietro dalla distanza lo rendono un cecchino quando si tratta di dover scaricare il pallone alle spalle del portiere bene anche i passaggi 88 di corte 81 di lungo l'effetto 95 è un giocatore che chiaramente pecca un po' in agilità nei micromovimenti con la levetta 83 infatti quel parametro lì 82 l'equilibrio bene almeno il 90 di reattività che un po' riequilibra però appunto il giocatore è appesantito dal fatto che è un metro e 83 e ha un bel 81 di forza che diciamo tende a trascinare questa carta un po' più verso il suolo piuttosto che verso l'aria nel librarsi come una libellula bene questa citazione incredibile per quanto riguarda invece i playstyle abbiamo il tiro potente plus e la calamita ovvero il primo controllo ma poi tanti altri ottimi playstyle abbiamo il tiro di precisione il tecnico il rapido il passo veloce e la trivela bene bene il powershot ma bene bene anche il primo controllo perché vi ripeto questo per me è uno stile di gioco tremendamente sottovalutato permette di poter controllare infatti il pallone in maniera migliore quando si ricevono i passaggi tesi ovvero i driven pass e visto che alla prima punta si fanno spesso i driven pass tanta tanta roba bene anche il tecnico seppur bianco bene il rapido bene il passo veloce che comunque dà una mano a questo giocatore ad andare un po' più via in velocità soprattutto con i doppi passi le trivele ci stanno per abbandonare mentre il tiro di precisione calcolando che abbiamo una carta comunque con un buon 90 dalla distanza e 92 di potenza tiro si sente discretamente un giocatore al quale tutto sommato darei un 7 e mezzo per il rapporto qualità prezzo per quello comunque che è il rendimento però considerando che gli manca quel pizzico di boost soprattutto dopo i doppi passi gli manca quel pizzico di agilità dentro l'area di rigore non mi sento di dargli un 8 che sarebbe un voto di tutto rispetto il mio consiglio è quello di sbloccarvelo se siete fan quindi non lo so siete milanisti lo amate particolarmente altrimenti piuttosto che mettere fodder su Ciovicenco mi vado a prendere magari un giuavo pedro che costa meno ed è anche scambiabile ma veniamo a Claudia Pina Medina 1,65m alto normale il work rate 4 skill 5 piede debole piede preferito destro stile di corsa più esplosivo questa è la hidden gem di questo video e ragazzi miei per 200.000 crediti più o meno se state dormendo su questa carta svegliatevi e sbloccate la prima che finisce perché altrimenti io vi assicuro ve ne pentite può fare C-O-C-C-C-A-S come ruoli per ibridarla quindi di partenza all'interno delle vostre formazioni è una carta che è più rapida di quello che sembra perché la cosa che la frena purtroppo è solamente il body type perché è 1,65m però quando parte palla al piede io vi assicuro che riesce a mettersi dietro anche a difensori belli rapidi avversari belli rapidi finalizzazione 95 potenza tiro 90 e tiro dalla distanza 88 la rendono una finalizzatrice implacabile sottoporta infatti dalle statistiche potete vedere che in 22 partite ha fatto 25 gol e 12 assist giocata sia da C-C nel 4-3-2-1 ma nel 4-3-2-1 anche da T ovviamente può giocare anche da C-C magari con centrocampisti proprio tremendamente difensivi tipo magari un Vierai in un 4-4-2 ma lei deve essere sbloccata e non si deve preoccupare troppo di difendere per quanto riguarda invece le statistiche di passaggio abbiamo un clamoroso 90 di corto e un buon 81 di lungo o agilità 89 91 di equilibrio 92 di reattività 89 di dribbling con questo body type qua ragazzi miei con i micro movimenti questa fa veramente abuso totale giocatrice fenomenale sotto quel profilo lì per non parlare dei playstyle perché abbiamo il tiro di precisione plus il passaggio incisivo plus il calibrato e il tiki-tac a base nonché il tecnico alla trivella e le giocate di classe prima di andare ad analizzare gli altri io mi soffermerei su questo tiro di precisione perché ragazzi miei questo tiro di precisione è probabilmente il migliore del gioco insieme alla puteglia stoti una roba che sembra prepaccio sembra che per lei il tiro di precisione non sia mai stato nerfato è veramente precisissima nelle conclusioni dalla distanza il passaggio incisivo si sente tantissimo quando mandiamo i nostri compagni in profondità e poi li serviamo con dei triangoli perfetti bene anche il passaggio calibrato quando vogliamo dare una X un po' più forte senza fare il driven pass per quanto riguarda invece il tecnico anche qui quando facciamo la corsa controllata visto il body type questa carta va benissimo nello stretto trivele ci stanno purtroppo per salutare io già so che questa carta qui me la andrete a paragonare con due altre giocatrici infatti adesso ne parliamo però prima di abbandonarla vi dirò che utilizzata sbloccata ci ho messo proprio un bel cacciatore ignorante per boostarne il potenziale offensivo e il voto che le do onestamente amici miei per quello che rapporto qualità prezzo è un bel 8 e mezzo 9 meno pieno ciao franchi vi dicevo quello che può essere il confronto con due calciatrici ovvero la bomba t nella versione centurione perché chiaramente la toti fa un altro calcio stessa cosa per la puteglias base perché la winter fa un altro calcio partiamo dalla bomba t la bomba t è praticamente la copia di questa carta perché ha 4-5 l'unica cosa che ha in più è l'alto alto però è leggermente più bassa e a livello di playstyle praticamente si vanno ad intercambiare giusto quelli che sono i plus lei di plus ne ha due la bomba t ha solamente il tecnico quindi dal punto di vista dei playstyle preferisco lei e anche dal punto di vista di presenza in game rispetto alla bomba t centurione onestamente andrei sulla pina stesso discorso per la puteglias base che a livello di playstyle ha solamente la calamita che va bene perché a me piace tanto ve l'ho detto è 5-5 quindi anche la quinta skill però questa qui è una carta che ormai inizia a fare un po' di fatica sapete quanto io ami la regina però onestamente piuttosto che andare a prendere una carta che comunque costa 200.000 crediti e metterla in campo con quelle che sono le limitazioni del caso mi prende una bella claudia pina che con i fodder magari mi vado a pagare un 100k o pago zero e il rendimento è veramente incredibile ragazzi anche per questo video è tutto al solito io vi aspetto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questi giocatori e soprattutto fatemi sapere se avete sbloccato qualcuno di questi e come vi state trovando vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma viola e a me non resta altro che augurarvi una buona giornata un salutone a vostri Berowski e a presto ciao